mobilificio arte e arredi quando il mobile diventa arte Onofi Vullo, presidente dell'associazione La Nuova Isola, l'annuncio ieri tramite facebook che non ci sarete quest'anno al carnevale di Sciacca, rinunciate a malincuore, avete scritto perché non riuscite a trovare dei magazzini idonei per la costruzione del carro? Sì, purtroppo ieri sera decisione sofferta perché chi ci conosce sa quanto amiamo questa festa ma purtroppo ci siamo ritrovati nelle condizioni di dover rinunciare al momento per mancanza del posto dove andare a costruire le nostre opere Serve un posto che deve avere delle caratteristiche precise, non un magazzino qualsiasi? No, 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 purtroppo per andare a costruire le opere in cartapesta servono soprattutto in altezza e in larghezza e nonostante ciò abbiamo girato in lungo e in largo da più di un mese non siamo riusciti a trovare nessun posto che poteva essere idoneo alle nostre situazioni per poter lavorare in modo pulito All'inizio voi eravate stati incerti sulla presenza quando si parlava di questo rinvio a maggio poi la decisione di esserci avevate espresso la volontà di partecipare immagino avevate già un'idea pronta Sì, avevamo l'idea pronta, c'era l'incertezza all'inizio poi quando sono state fissate le date ci siamo messi in modo così da raggruppare l'equip e cercare il tema, avevamo già tutto pronto e giustamente il twist di ieri si è bloccato tutto Massimo Napoli, lei fa parte dell'associazione La Nuova Isola, fondatore storico tanti carnevali, un'associazione che tra le altre cose ha anche vinto tante volte il carnevale di Sciacca con opere bellissime sicuramente sentirà la mancanza il vostro commento è stato anche con una velata polemica legata al fatto che comunque da 25 anni si attendono i capannoni Ovviamente sì, i fautori di questa sconfitta è la politica in primis perché non ha mai creduto in questa festa, lo dobbiamo dire in 25 anni abbiamo visto tanti sindaci, molti dei quali oggi sono in consiglio comunale quindi i fautori sono tutti all'interno ma alcuni fanno parte ancora politica attiva quindi non voglio adossare le colpe, però non hanno avuto mai il coraggio di prendere una decisione, anche in popolare perché capisco che c'è uno spaccato di città che non ama questa festa oppure se io dico di sbagliare perché noi veniamo da Viareggio e abbiamo che c'è la città compatta per questa festa perché gira l'economia il carnevale è una grande risorsa culturale ma anche economica e non si può non accettare questa cosa quando si dice quale beneficio porta il carnevale non è vero, il carnevale lo sappiamo, lo sanno gli operatori lo sanno gli abbergatori molti amici mi chiamano, non stanno trovando un posto libero per maggio non è che stanno arrivando ad agosto a Sciacca e qui dall'agosto già si coda nel mare vengono le prime di maggio, le prime di maggio è impensabile che una famiglia si sposti per un fino a settimana tranne sono l'1 maggio quindi da lì dobbiamo pensare che quello che è gravità torna al carnevale quindi quando, questo è successo oggi a noi ma nei prossimi anni può succedere a chiunque questo è fallimento della politica in generale destra, sinistra, centro perché se non siamo riusciti ancora ad avere una casa questa è colpa dei garristi Presidente, lei è d'accordo con chi dice ma si dovrebbero fermare tutti i garristi perché il problema che avete voi l'hanno un po' tutti nel senso che non ci sono strutture donne io dico che personalmente è giusto che si riparta è giustissimo che si riparta la festa deve ripartire altrimenti è come se le terme chiuse nessuno ci pensa va a finire così non può essere che è una festa che veramente la città deve cominciare ad amare ripeto così come ha detto Massimo poco fa noi veniamo da Viareggio là è la città che fa carnevale e abbiamo visto qualcosa di impressionante quindi cominciamo a capire che deve essere una risorsa per il paese una risorsa guarda, i bambini erano estasiati già anche in prima colazione gli albergatori, i camerieri i vestiti del bullamacco, del lecchino che ti servivano le tavole là vivono il carnavale il carnavale delle famiglie dobbiamo crescere anche noi culturalmente dobbiamo crescere noi come i carristi dobbiamo crescere la città in effetto turistica dobbiamo crescere in tutti questa è una risorsa abbiamo un grande potenziale guarda, il carnavale a Viareggio il carnavale di Sciacca è molto conosciuto vi anticipo che molti artisti di Viareggio verranno a Sciacca a bisognare perché cogliono l'occasione del periodo ma è un carnavale che punta in alto dobbiamo pensare che è Cireale in questi giorni quando c'è stato il carnavale di Sciacca hanno incassato più di 500 mila euro un intro in più entrambi i carnavali hanno fondazione e hanno strutture donne purtroppo si parla sempre della fondazione però la fondazione non deve essere in uso della politica perché non deve fare spazio al primo di non eletti deve essere fondato da albergatori carristi, operatori del settore non deve dare spazio alla politica perché se la fondazione è gestita da una politica non so se è un bene o per la città infine per chiudere Presidente lascio a lei se si dovesse fare avanti qualcuno c'è ancora possibilità che la nuova isola magari possa essere? mai dire mai ripeto la fiamma è sempre accesa quindi la speranza è l'ultima a morire